dati provenienti da autorevoli ricerche affermano che per i commercialisti sta arrivando l'inverno rischia l'uscita dal mercato il 20 per cento dei professionisti iscritti agli ordini per i commercialisti vecchio stampo tutti contabilità e fisco sta arrivando l'inverno la crescente semplificazione fiscale che renderà inutile il commercialista l'aumento della concorrenza anche delle case di software che si metteranno a derogare direttamente il servizio di contabilità ai clienti finali e la diminuzione dei prezzi dovute all'inaspiramento della concorrenza faranno sparire almeno il 40 per cento degli studi attualmente attivi gli studi che hanno solo due gambe di ricavi servizi ripetitivi a basso valore aggiunto e consulenze occasionali dovranno da una parte diminuire i costi di gestione esternalizzando i servizi ripetitivi a basso valore aggiunto esempio contabilità e dall'altra parte dovranno per forza istituire la terza gamba cioè servizi ripetitivi ad alto valore aggiunto come il controllo di gestione le ricerche dicono che il 30 per cento degli studi professionali attualmente erogano servizi di controllo di gestione la ricerca su linkedin commercialisti controllo di gestione restituisce 186 mila risultati il controllo di gestione non è più un vantaggio competitivo ma un prerequisito se hai uno studio devi offrirlo ai clienti altrimenti non sei sul mercato e soprattutto hai la possibilità di raddoppiare i tuoi ricavi io sono 12 anni che studio di investo sulla balance scorecard il cruscotto di controllo è una balance scorecard in questo tempo ho formato migliaia di professionisti ed oggi sono più di 200 i commercialisti che erogano servizi di controllo di gestione usando il cruscotto di controllo e con esso soddisfano i loro clienti e ne acquisiscono di nuovi il cruscotto di controllo non è altro che uno strumento di controllo di gestione ed è il primo ed unico software cloud di controllo di gestione basato sulla balance scorecard se vuoi diventare un commercialista strategico partecipa ai nostri webinar gratuiti www.cruscottodicontrollo.it www.consulentiaziendaliditalia.it